E allora si è appena conclusa la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore della Cremonese. Quello che mi ha colpito sono state intanto le parole del presidente Gigi Simoni che l'ha definita come un giovane ma con grandi dote d'allenatore. Ci si ritrova? Lo ringrazio perché è un personaggio veramente carismatico e ringrazio lui, ringrazio il Cavaliere Alvedi che mi hanno scelto per questa situazione. Allora arrivo come ho detto prima su una grande piazza e ho voglia e entusiasmo e ho voglia di portare questa squadra a fare dei risultati importanti. Ci saranno tantissime difficoltà però la voglia di far bene c'è e sicuramente come prima giorno è andato molto bene, ho visto i ragazzi molto stimolati che hanno voglia, sanno della situazione e capiscono che vivono un momento un po' così. Però ho visto anche dei ragazzi che hanno entusiasmo e che hanno voglia di sorprendere. Sicuramente quello che io mi aspetto, quello che io spero, la mia speranza è di portare come ho detto la gente allo stadio perché mi piacerebbe rivedere lo stadio di Cremona. Cremona non dico pieno ma insomma con più persone, con più tifosi che sono convinto anche che la città ama molto questa squadra. C'è in questo momento delusione forse che viene anche da qualche anno però vedendo la struttura, vedendo la società per quanto insomma è strutturata, per l'importanza della piazza io spero appunto di invertire, la mia ambizione è questa e poi bisogna sognare nella vita. Io in questo momento sto sognando perché mai avrei pensato di essere scelto per questa situazione, per questa grande piazza e adesso ho voglia insomma di far sì che questa squadra arrivi a divertire. Che cosa chiederà però come prima cosa ai suoi giocatori? L'ho chiesta oggi, ho chiesto di sgombrare la testa e di avere entusiasmo che le cose ti vengono solo se lavori sodo, se lavori tutti i giorni con amore per il proprio lavoro e sicuramente la voglia anche di lottare non solo per se stessi ma per la gente perché questo poi i tifosi lo sentono. La prima partita sarà una partita molto impegnativa, un posticipo quindi anche con tanto di diretta televisiva per cui ci saranno tutti gli occhi puntati su questo nuovo allenatore, questa nuova cremonese. Come pensa di affrontare l'Alessandria? Sarà come ho detto prima la partita più facile per noi perché ieri abbiamo visto l'Alessandria giocare in semifinale contro il Milan perciò questo deve essere da stimolo per i giocatori per dimostrare quello che vale questa squadra perché non devono mai sentirsi feriore a nessuno, perciò noi partiamo sempre con l'atteggiamento per far sì che si possa vincere con chiunque con quella voglia, con quella determinazione che deve esserci su ogni partita per fare questo sport. A Cremona ritrova Gigi Turci? Mi ha fatto un grande piacere perché ho lavorato con Gigi due anni in due piazze diverse, Trieste e Pordenone ed è stato veramente una casualità incredibile ritrovarlo proprio qui a Cremona perciò sono felice perché c'è bisogno di gente, di grandi professionisti come lui vicino.